ciao a tutti oggi con un mini aspirapolvere e dei beccucci della saga poche costruiamo un affumicatore tipo quelli che vedete di solito a master chef io lo utilizzerò per i miei vari salumi ma soprattutto per affumicare il whisky quindi non perdetevi il prossimo video perché andremo a fare di nuovo il whisky fatto in casa affumicato torbato l'idea non è mia al 100 per cento preso spunto da un altro video un altro youtuber il suo canale si chiama iter lo metto qua così potete dare un'occhiata anche il suo video quello originale la mia idea era utilizzare una pompa quella per il canotto per i metrassini ma era troppo cara come opzione in più quella alla presa elettrica questo invece è a batteria quindi se andate a fumicare vi conviene farlo all'aperto non avete alcun problema l'altra mia idea era utilizzare un aeratore quello per l'acquario perché tipo una pompetta ma il problema è che all'uscita ma l'entrata prende l'aria in generale non ha un tubo di entrata quindi diventava complicato invece questo ha l'entrata qua sopra quindi comodo starà in piedi da solo e l'uscita qua davanti allora io adesso vado a tagliare questo spazzolino vado a incastrare per evitare di utilizzare colla un beccuccio mentre gli altri beccucci andrò a mettere all'interno loro hanno fuori di varie dimensioni che faranno diciamo da filtro così da non far entrare i nostri legnetti all'interno e poi non ci resterà che provarla tagliato quindi adesso lui entrerà perfettamente in questo tubo che ho dimenticato di mostrarvi prima lo incastriamo nell'altra estremità mettiamo i coni spingete con forza da incastrarlo volendo qui o con un pezzettino di fil di ferro o con delle fascette quelle rapide da elettricisti sigillate per bene e poi non ci resta che fare la prova funzionare funziona come potete vedere bene io lo spengo prima che chiamano i vigili ci vediamo nel prossimo video perché andremo a fumicare il whisky quindi mi raccomando se non siete ancora iscritti al canale iscrivete mi lasciate un mi piace guardate gli altri video per qualsiasi richiesta qualsiasi consiglio sempre sotto nei commenti ciao ciao tenete conto che qua c'è il vento per fortuna altrimenti avevano già chiamato il vigile del fuoco e poi andremo a farlo